Buon pomeriggio a tutti, l'obiettivo di questa presentazione è parlarvi di Vicky Loss Monuments. Vicky Loss Monuments è letteralmente il più grande concorso fotografico al mondo, vincitore di Guinness dei primati, quindi non c'è concorso al mondo più grande. Oltre 70 paesi hanno partecipato, è stato creato nel 2010, ha iniziato in Italia nel 2012 ed è un concorso che invita chiunque a fotografare il patrimonio culturale e renderlo disponibile su Wikipedia e i progetti Wikimedia, mentre si carica su Wikimedia Commons. Inizio dalla fine della mia presentazione, quindi il mio obiettivo è quello di invitarvi a partecipare. È iniziato adesso il caricamento, quindi potete scaricare l'app, vedere cosa manca, in rosso sono gli edifici da fotografare, potete partecipare durante il mese di settembre e poi potete anche partecipare aiutandoci a raccogliere autorizzazioni, perché in Italia organizzare Vicky Loss Monuments è estremamente complicato. E anche qua arrivo alla conclusione della mia presentazione. Ci sarebbero delle cose che ci farebbero molto comodo, per esempio il rispetto del pubblico dominio, che in Italia non abbiamo per i beni culturali, la libertà di panorama, che non abbiamo, quindi non possiamo fare fotografie di beni che sono ancora sotto copyright e che si trovano appunto per strada, non rilasciandoli con licenza libera che permette l'uso commerciale. I dati pubblici non sono disponibili senza restrizioni, facciamo fatica ad avere accesso a dati in CC0, che è quello che ci serve per i progetti. E infine ho inserito ovviamente il software, che è una di quelle battaglie che Wikimedia Italia partecipa a sostenere. Questi sono anche i punti con i quali Wikimedia Italia partecipa alle consultazioni, sia per la digitalizzazione dei beni culturali che per gli open data. E adesso passo un po' a spiegare le questioni, diciamo, legali. Cioè perché è così complicato caricare fotografie di beni culturali in Italia? Allora uno si immaginerebbe che va davanti a un bene culturale, un museo, un monumento, un edificio storico, fa una fotografia e la carica su Wikimedia Commons. Ricordiamoci che tutto quello che c'è su Wikimedia Commons, i progetti Wikimedia, ha una licenza libera o è rilasciato con uno strumento libero. E libero significa autorizza anche l'uso commerciale. In realtà, diciamo, quello che va fatto in Italia è un po' più lungo. Abbiamo problemi ad avere accesso alle liste dei beni, servono le autorizzazioni di chi gestisce i beni, servono ovviamente le autorizzazioni degli autori o degli artisti dei beni. Insomma, quindi la catena, diciamo, il processo per riuscire a fare fotografie del patrimonio culturale italiano e metterlo su Wikipedia e sui progetti Wikimedia in modo libero, trasparente e pienamente accessibile è decisamente complessa. Qui uno schema giusto per darvi un'idea, cioè, quando si carica sui progetti Wikimedia l'autore autorizza, se ha fatto la fotografia, a caricarlo. Se si tratta di digitalizzazioni del patrimonio, tipo di una collezione d'arte, quelle, grazie alle direttive europee, non sono coperte da copyright, quindi qui siamo sereni. Poi serve l'autorizzazione dei proprietari, adesso sempre più musei permettono di fare fotografie. serve il diritto dell'autore dell'opera, nel caso sia un artista, un architetto, che non è morto da almeno 70 anni. C'è la legislazione dei beni culturali, che è il codice dei beni culturali, che dice che può essere richiesto un canone, quindi un pagamento nel caso di fotografie commerciali, quindi serve l'autorizzazione a canone zero, in modo tale che sia bene esplicito. E infine, attenzione a non caricare immagini di persone che non siano d'accordo. Quindi questo per darvi un'idea della complessità di questo processo. Ma perché vale la pena caricare il patrimonio culturale su Wikipedia? Beh, intanto il mondo sta andando in questa direzione. Open data, open science, open government, open access, che ormai è un tema anche molto diffuso, anche tra i musei, sono dei temi ormai, diciamo, di cui si sa l'importanza anche per la qualità di quello che viene prodotto. Non soltanto si danno a disposizione di cittadini e di società dati e materiali che possono essere riutilizzati, ma anche questa apertura rende trasparenti le procedure e migliora la qualità delle istituzioni. Poi c'è un tema di visibilità. È chiaro che con 20 miliardi di accessi al mese Wikipedia è una fonte di visibilità per i beni culturali incredibile. Ma anche è un modo per rendere pienamente accessibile del materiale che spesso è chiuso dentro i nostri musei o nei piccoli territori non si conosce anche la ricchezza di questo patrimonio. Il rendere disponibile il materiale e renderlo disponibile per il riuso sostiene la partecipazione, l'innovazione e chiaramente anche la ricerca. Pensate a un museo che fa fatica, i musei sono enti di ricerca, ma spesso fanno fatica a produrre ricerca originale perché ovviamente è un costo. Rendere disponibili le loro collezioni e renderle accessibili pienamente online permette ad altri ricercatori di utilizzare quel materiale e quindi valorizzarlo attraverso la ricerca. Wikimedia Italia in questi ultimi dieci anni, adesso questo è un dato vecchio, siamo ormai a 3.000, i comuni che hanno aderito a Wikilos Monuments, raccoglie adesioni. Quindi è un processo di autorizzazione. Per il Veneto, come vedete, sono ancora poche le città che hanno dato autorizzazioni e la dimensione del pallino dice anche quante sono le fotografie che sono state fatte. Adesso tra l'altro abbiamo lavorato su una serie di nuove visualizzazioni in cui vedete questi ventagli grigi che sono tutti dati del patrimonio culturale disponibili su Wikidata. In giallo sono le autorizzazioni e in verde sono le fotografie dei beni che sono state fatte sui beni autorizzati. Quindi insomma abbiamo anche dei sistemi di monitoraggio per vedere anche come stiamo andando nel raccogliere materiale. Purtroppo Sant'Ona di Piave manca nella mappa, quindi ci tenevo appunto a presentare anche questo lavoro e dire su, vediamo di farlo comparire nella lista dei monumenti che partecipano a Wikilos Monuments. Non è l'unico comune, ci sono altri comuni, magari nelle vostre zone, se potete dare un'occhiata e partecipare, magari raccogliere adesioni, sicuramente questo è un contributo molto importante. E l'adesione si tratta, il sito di Wikimedia Italia dà le informazioni, si compila un modulo e lo firma l'ente gestore, si carica questo modulo in modo tale che sia accessibile su Wikidata e infine si possono fare le fotografie e migliorare i contenuti. Ovviamente fare le fotografie e migliorare i contenuti vale un po' per tutti. Possiamo tutti contribuire e partecipare. Quest'anno abbiamo in realtà inserito anche degli ambiti tematici nuovi, che sono i castelli e le fortificazioni, in cui stiamo seguendo un nuovo approccio, cioè opt-out, per cui abbiamo fatto una collaborazione con l'Istituto dei Castelli Italiani per fare in modo che tutti i castelli siano caricati. E poi abbiamo contattato i castelli dicendo, siete contenti? Altrimenti ditecelo. Vogliamo vedere come funziona anche per un po' stressare la legislazione sostanzialmente. Faremo la stessa cosa l'anno prossimo per le chiese e le abbazie e nel 2024 sui musei. Anche i musei possono contribuire a Wikipedia e ai progetti Wikimedia e abbiamo lanciato proprio un pilota, questo mese partirà una campagna nazionale su tutti i musei su Wikipedia. Adesso ho preso per esempio quello del Museo della Bonifica, che non ha immagini su Wikipedia e che può ovviamente partecipare molto bene a questa iniziativa, così come il Parco della Scultura in Architettura. e l'idea è quella appunto di invitare in collaborazione con ICOM Italia, che è l'ente che in Italia si occupa dei musei, con Creative Commons e l'Università di Torino, tutti i musei a contribuire a Wikipedia e ai progetti Wikimedia. Il modo più semplice per contribuire è quello di rendere disponibile una ventina di fotografie in CC0, insieme a un testo in CC0 e dare un'autorizzazione che è anche un primo passo in direzione dell'open access. Quindi l'autorizzazione è praticamente un avvio di un'open access policy, in cui il museo si impegna ad aprirsi. E lo stiamo facendo apposta per cominciare a raccogliere adesioni. Adesso abbiamo fatto una raccolta... Scusate, faccio un po' fatica a parlare, prendo un po' d'acqua. Grazie. Allora, quello che abbiamo pensato è di indirizzarci a tutti i musei d'Italia che su Wikidata sono 6-7 mila musei, riuscendo a raggiungerne un 3 mila, perché per avere ovviamente gli indirizzi e i contatti c'è un filtro, e con l'obiettivo di avere l'adesione di 500. Questo è un po' quello a cui puntiamo con questa campagna. È un progetto finanziato anche da Wikimedia Foundation ed è la prima volta al mondo che si fa una campagna così territoriale, nazionale. E l'obiettivo era quello di dire portiamo tutto il patrimonio italiano, perché il sistema che stiamo seguendo non è scalabile. Continuiamo a lavorare con poche istituzioni, ma noi vogliamo tutte le istituzioni, vogliamo i musei dei piccoli paesi, vogliamo tutti i centri culturali. E quindi questo è l'approccio che stiamo sperimentando. L'idea è quella di una fase successiva all'anno prossimo, in cui si chiederà ad una cinquantina di istituzioni, quindi selezionate, di rendere disponibile una selezione delle loro collezioni. E infine abbiamo invece un progetto di più ampio respiro con cinque istituzioni, tra queste c'è già il Museo Egizio di Torino, che stanno seguendo un data management plan su tutta la loro documentazione, quindi compreso il software, anche tutto quello che è materiale dell'istituzione. Quindi il processo è questa autorizzazione che ha anche un open access policy, il caricamento delle fotografie in CC0, il testo in CC0, un controllo dei dati su Wikidata, e infine stiamo raccogliendo anche delle informazioni insieme all'Università di Torino per fare il monitoraggio dell'impatto e quindi un questionario. Seguiamo in modo abbastanza religioso un approccio alle licenze un po' rigido. Quindi la MIC-BY-NC, che è stata l'ultima proposta del Ministero, è stata ovviamente oggetto di Wikimedia Italia, una guerriglia abbastanza dinamica. Quindi per noi il materiale deve essere a disposizione per produrre opere derivate, deve essere disponibile per gli usi commerciali, e anche non vogliamo l'attribuzione sui dati, altrimenti non abbiamo la compatibilità con Wikidata. E quindi questi sono gli strumenti che sosteniamo invece CC0, CC BY e CC BY SA, con sostanzialmente un approccio legato alla tipologia di materiali. Cioè la CC0, che è sostanzialmente un donare al pubblico dominio, è per dire guardate che non tutto quello che state facendo è realmente sotto copyright. Molto spesso si tratta di testi generici che non sono dei contributi autoriali, per cui rendiamoli in CC0, cioè non copriamoli con del copyright. Non so, penso ai testi informativi sui siti internet delle istituzioni, in cui dicono a che ora apre, quando è la storia delle istituzioni. Questi non sono dei reali contributi autoriali. Mentre invece dati, metadati, anche quelli in CC0, la documentazione delle istituzioni in CC BY, quando si tratta di materiale autoriale, cioè che è firmato, e i progetti collaborativi. Qui c'è una scivolata legata a Wikipedia, ovviamente, con la CC BY SA, quindi con questa idea virale di mantenere i materiali aperti. Devo mettervi a parlare velocemente. Volevo giusto alcune annotazioni sui materiali che abbiamo caricato fino adesso. Questo lavoro sui musei, sui 7000 musei, ha in realtà prodotto una documentazione molto interessante su Wikidata. Poi dopo Valerio Bozzolan parlerà di come funziona appunto Wikidata, di come si possono fare scraper, ma in effetti lavorare su un tema come quello dei musei. Abbiamo caricato dati Istat, abbiamo insomma arricchito veramente tutta la documentazione per vedere come sono queste istituzioni. Lato software, ancora non stiamo muovendoci molto, ma il Museo Egizio ha un piano anche legato al software che trovate online. E infine, l'ultimo progetto, che magari può essere interessante, diciamo anche per future collaborazioni, è il Barometro della Conoscenza Libera, che sta lanciando Wikimedia Italia e che è praticamente un report annuale che quest'anno sarà soltanto sul tema del patrimonio dei musei, ma che vorremmo nei prossimi anni spaziare sull'open science, l'apertura dei contenuti delle pubbliche amministrazioni e l'apertura nelle scuole, quindi l'uso del software libero e di strumenti aperti. Ecco, grazie. 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 Grazie.